Mentre fanno ancora discutere foto e immagini degli affollamenti nelle strade dello shopping in tutte le città, nessuna esclusa, arrivano puntuali le notizie di nuovi contagi, in particolare negli ospedali. Questo dovrebbe far riflettere le persone sulla leggerezza con la quale non si tengono conto delle più elementari norme per cercare di ridurre il contagio. All'Umberto I di Nocera Inferiore è risultata positiva al Covid-19 in un'infermiera della terapia intensiva neonatale. Contagiati da malati anche due infermieri in servizio nel reparto di oculistica. Sono in isolamento nella loro abitazione. Un mese fa era risultato positivo al tampone anche un medico dello stesso reparto. Un altro contagio riguarda un anestesista. È scattato il tracciamento dei contatti e tutti i colleghi venuti in contatto con lui con il personale sanitario contagiato saranno sottoposti a tampone. Intanto in provincia di Salerno l'andamento epidemiologico Covid-19 registra nuovi casi nelle ultime 24 ore, così come riferito dall'Unità di Crisi di Protezione Civile della Regione Campania. Salerno città registra 30 tamponi riscontati positivi al coronavirus. Nell'agro nocerino è a Pagani che si registra il maggior numero di positività nelle ultime 24 ore. Sono 7 i tamponi emersi. A nocera inferiore sono 5 i nuovi casi riscontrati. 4 i tamponi positivi al coronavirus a Roccapiemonte, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Scafati. Un solo caso a Caser San Giorgio, Bracigliano, Sant'Egido del Monte Albino e Siano. Nessuna nuova positività a Nocera Superiore e Siano, che sono gli unici comuni dell'agro a non registrare nuovi casi di coronavirus. Nella Valle dell'Irno un solo caso è stato riscontrato dall'Unità regionale. Si tratta di Fisciano. Nessun nuovo caso a Baronissi e Mercato San Severino. A Cava dei Tireni i tamponi che hanno dato esito positivo sono 3. La città costiera di Vetri sul mare non riscontra nessun nuovo caso positivo al virus.